ciao a tutti amici ben ritrovati su universe art oggi voglio farvi vedere i prodotti che ho acquistato nel mese di gennaio ho preso delle cose nuove tra art supplies e invece prodotti diciamo per aiutarmi con il coloring o per storage insomma per immagazzinare le pagine colorate sono stati acquistati da un grosso magazzino che ho qua in zona si chiama max factory hanno delle sedi in giro un po per tutta italia quindi controllate sul sito se anche da voi sono sono presenti e invece un acquisto in particolare è stato effettuato dall'ipercop comunque adesso vi dico tutto andiamo subito a vedere che cosa ho preso come primissima cosa veloce voglio iniziare da questi fermacarte queste pinze che ho comprato per tenere ferme le pagine mentre sono in colorazione perché spesso utilizzando mezzi acquarellabili le pagine tendono un po ad arricciarsi e a spiegazzarsi quindi ho pensato di prendere questi perché essendo appositi per la carta presumo non vadano a rovinare il foglio mentre lo pinzano ed era una confezione da sei qua ne vedete quattro perché due li sto attualmente utilizzando e ora vi faccio vedere subito era una confezione da sei se non erro della marca prima e non costavano molto adesso non ricordo sinceramente il prezzo c'erano diverse misure e appunto erano sei pinze colorate con i colori pastello vi faccio vedere subito sto colorando questa pagina e avendo utilizzato e sono è carta molto sottile oddio sottilissima neanche tanto però piuttosto sottile un po più spessa della carta da stampante utilizzando i neocolor 2 sullo sfondo tendeva a spiegazzarsi quindi per tenerlo giù diciamo non farlo piegare più di tanto sto utilizzando le pinzette e devo dire che funziona bene e non mi sembra che rovini la pagina quindi promosse a pieni voti si forse un pochino di colore viene lasciato giù ma niente di che poi comunque vi vi farò sapere più avanti eventualmente come si comportano quindi questo è stato il primo piccolo acquisto per appunto riuscire a lavorare meglio sulle pagine da colorare ma continuiamo l'acquisto successivo che ho effettuato sempre a max factory sono queste tempere stick nella versione fluo di prima sono sei colori e sono colori lavabili asciugano subito sono per bambini però sono molto carini per fare degli sfondi semplici veloci io avevo già acquistato questo è il cassettino di uno dei miei organizer che ho qui sulla scrivania poi magari qualche giorno vi farò vedere come mi sto organizzando la scrivania e lo spazio per il coloring e avevo già acquistato la versione da sei dei metallizzati infatti questi sono tempera stick nella versione metallizzata e ve li avevo già mostrati in passato ora acquistato questi sei nella versione fluo perché ho visto dei lavori bellissimi fatti con i colori neoni colori fluo e niente non sono desiderosa di provarli anch'io i colori sono questi abbiamo rosa viola azzurro verde arancio e giallo e ho già preparato per voi lo swatch quelli sopra sono i metallici quelli sotto sono i neon sono molto molto carini l'unica cosa che non sono molto precisi perché sono fatti in questo modo sono proprio tipo dei burro cacao e per cui è difficile essere precisi però per fare degli sfondi nelle pagine semplici vanno assolutamente più che bene quindi questo è l'altro acquisto che ho effettuato da max factory vediamo cosa c'è dopo l'acquisto successivo che ho fatto sempre da max factory e trovate anche almeno io nel mio iper copp l'ho trovati comunque anzi costavano anche un pelo meno appunto è di questi acquarelli per bambini in realtà cioè non è niente di iper figo o professionale sempre perché ho visto delle pagine colorate e in uno dei libri che mi è stato regalato per natale fatto con i colori neon ed era stupendo con gli acquarelli neon qua dentro ci sono 12 colori fluo e metallizzati sono cinque fluo e gli altri metallizzati la confezione è in plastica e si apre così viene via completamente il coperchio e si trovano i dischetti all'interno vi era anche un pennellino che io ho levato perché non li tengo mai all'interno della confezione visto che ho un barattolo dei pennelli e appunto si presentano così come dei dischetti io ho già fatto lo swatch e devo dire che sono molto molto carini quelli ecco esatto quelli metallizzati hanno una sorta di glitter e di nuovo quelli fluo sono veramente molto belli mi piacciono parecchio quindi per essere comunque degli acquarelli a basso costo direi che hanno superato a pieni voti il test ecco l'acquisto successivo che ho effettuato sono tre nuovi alcohol marker della Ofix ve ne ho già parlato ve li ho già fatti vedere li ho già utilizzati e appunto sono di questa marca Ofix che io riesco a trovare in questi negozi in un paio di negozi dei cinesi ho scelto di comprare anche qui i colori fluo perché mi sono resa conto che su diversi libri potrebbero essere carini e ho preso il rosa fluo il giallo fluo il verde fluo ve li faccio vedere subito ah per chi non li conoscesse sono appunto dei marker quindi dei pennarelli a base alcolica quindi sono ideali per colorare senza lasciare delle delle righe ho visto gente in alcuni gruppi che lamentava di non riuscire a utilizzare gli alcohol markers perché lasciavano delle righe vi farò sicuramente vedere poi per bene come si utilizzano in futuro hanno una punta bullet una punta fine non vi so dire da quanto purtroppo e invece una broad una scalpello eccola qua tipo evidenziatore e allora i colori nuovi ve li faccio vedere subito sono il giallo fluo questo il rosa fluo questo qui il verde fluo questi sono tutti i colori che sono in mio possesso della linea of fixe ce ne sono degli altri spero di riuscire prima o poi a completarli sono degli ottimi marker per il costo perché costano circa un euro l'uno anzi costano un euro l'uno in questo negozio nell'altro costano un po di più quindi io li prendo sempre lì ora vi faccio invece vedere gli organizer allora eccoli qua questi sono quelli che ho acquistato dai cinesi sono sempre della linea della prima e sono quelli con il davanti personalizzabile a 40 buste sono dei portalistini ne ho comprati quattro perché sostanzialmente io tengo tutte le pagine nei libri però ci sono i blocchi della disney che sono proprio a blocco poi come avrete visto sicuramente dal video dei regali di natale che hanno la colla come i blocchi da disegno sostanzialmente nella parte superiore io temo che prima o poi quelle pagine si staccheranno perché effettivamente il loro presupposto è quello oltre che mi viene più comodo colorarle staccate in questo caso quindi cosa ho fatto ho comprato questi portalistini i blocchi come vedete qua contengono 60 disegni non 60 fissi solitamente a volte sono 63 quindi ho comprato dei portalistini con le pagine doveva essere a buccia d'arancia a me queste sembrano lisce va bene lo stesso da 40 fogli quindi facendo il fronte retro riesco a farcene stare di più e li ho voluti con la copertina personalizzabile in modo da poter mettere la copertina del blocco all'inizio e ho cercato a parte uno di prendere i colori un po' di miei quindi dell'universo per rimanere un po in tema e sono i quattro dei quattro blocchi che ho quindi ritratto tutti lucidi però boy power anche questo lucido non riesco a capire perché fuori c'era scritto buccia d'arancia ma fa niente in famiglia che la mia copertina è leggermente diversa da questa questa è la vecchia versione della copertina e feste quindi poi io andrò all'interno man mano che finisco i disegni staccandoli a posizionarli qua dentro e una volta finito il blocco potrò sfogliarlo ancora invece un acquisto effettuato da ipercop eccolo qua è sberlucicoso da morire stile holo qua lo chiamano diamante è bellissimo è della non vi so dire keep color si chiama by orna non so se riuscite a vederlo vedete anche me col mio bellissimo pigiamone e è un altro portalistino non vi so dire quante buste siano ma ho pensato di prenderlo per mettere i miei pdf quindi stessa cosa delle pagine disney ma per mettere dentro eventualmente i pdf che mi capitano i free buy queste cose qua che mi capita di colorare prima o poi finirò anche questo che mi aveva mandato creative paper lo prometto di pdf ne ho un'infinità quindi prima o poi colorerò anche un po di pdf e li inserirò all'interno di questo bellissimo portalistino che a parte che mi piaceva da morire ma fa molto universo piccola aggiunta ma non troppo piccola sono diversi libri e diversi art supplies come vi avevo già annunciato stavo aspettando dei libri da book depository e uno di questi era il libro forest girl di apple questo qua è il primo volume avete già visto in passato il secondo mi mancherebbe poi solo di fatto credo il terzo comunque questo a differenza del secondo ha la copertina morbida e non ha la carta adatta all'acquerello è comunque un libro bello grande in lingua originale quindi in coreano ma è molto simile all'altro la carta è comunque di ottima qualità è bellissimo veramente la carta è comunque appunto spessa come dicevo a parte l'introduzione in coreano troviamo poi anche la traduzione in inglese nelle parti interne del libro e come sempre ha l'immagine originale colorata da apple e di fianco la pagina che possiamo colorare noi e questo libro di nuovo è stupendo è veramente bellissimo sono molto intimidita al pensiero di colorarlo ma voglio davvero impegnarmi e provare a colorare queste pagine quindi sicuramente nei prossimi mesi mi butterò a provare una pagina penso che su questo libro sia meno adatto l'utilizzo appunto dei mezzi acquerellabili pur essendo stessa la carta ma mi informerò di questo e troviamo anche cose a tematica invernale quindi secondo le stagioni ci sono delle pagine molto carine per natale e altre di interni esterni cose molto dreamy è davvero davvero molto bello e quindi questo è il primo acquisto da Book Depository il secondo invece di cui vi avevo già anticipato l'arrivo è Tales from the Forest Kingdom che è il penultimo libro uscito di Anna Carlson devo ancora riuscire ad ottenere Tales from the Witch Cottage che non è ancora stato tradotto in inglese e uscirà un nuovo libro in primavera Tales from the City Among the Stars una cosa del genere rispetto agli altri libri di Anna Carlson è molto più sottile quindi simile a Tales from Midnight Musgrave è sempre della Gibbs Mead e ha sempre questo dorso in tessuto la copertina è rigida e la carta è sempre molto molto spessa e bella i disegni sono sono stupendi come sempre ed è molto molto bello l'unica cosa su cui sono un po' non mi viene l'altermine italiano disappointed quindi non molto contenta è il fatto che appunto costino tanto quanto i libri vecchi che contengono molti più colori quindi ecco su questo mi ritrovo un po' perplessa però è la mia illustratrice preferita quindi appena riesco ci tengo ad averli anche per un discorso di collezione oltre che di bellezza dei disegni ecco questa è una delle pagine che la mia amica Imogen ha colorato per il mio color along Mice & Moles e di cui ha realizzato gli adesivi che vi ho fatto vedere nello scorso video e quindi questo è l'altro libro sono felicissima è bellissimo a prescindere dal discorso quantitativo di pagine ecco poi passiamo invece alle guide ho ricevuto in anticipo il mio regalo di San Valentino da parte di mamma e mi ha regalato gentilmente questo fantastico libro la seconda guida di Colores Special Effects e ho già il numero 1 e contiene praticamente delle guide per imparare a colorare diversi oggetti c'è veramente di tutto da proprio oggetti, animali, altri effetti e questo libro veramente cioè queste guide sono spettacolari se seguite bene e aiutano veramente tanto a migliorare il proprio operato con i colori ad esempio in questo momento sto seguendo non è su questo comunque sto seguendo un tutorial per colorare le celle dell'alveare è stupendo ve lo consiglio molto costicchia perché anche se è un Amazon Printed costa comunque su 18-20 euro ma è veramente spettacolare da sola mi sono autoregalata il terzo volume troviamo la guida per colorare le celle dell'alveare sto seguendo questa e sto colorando una pagina da Summer Nights di Anna Carzon ve la faccio vedere che è questa e come potete vedere la parte colorata a matita è qualcosa di spettacolare io sono veramente felicissima del mio implemento nella colorazione seguendo queste guide perché è un salto di qualità pazzesco sono veramente felicissima di ciò è un lavoraccio questa pagina perché poi bisogna colorare una per una con tanti colori però il risultato si vede quindi sono veramente felicissima e sto seguendo appunto passo a passo il metodo di colorazione una volta che si è capito il metodo si può modificare la forma le sfumature e tutto il resto è veramente molto molto bella l'unica pecca allora rispetto al primo volume che dava solo i nomi dei colori questo utilizza il sistema di codifica delle Prismacolor che è una marca americana che qua non si trova facilmente si possono acquistare su Amazon ma poi per sostituire quelle che vanno a finire bisogna ordinarle d'altrove è veramente dispendioso quindi io sto utilizzando un sistema di conversione per trovare il colore più simile possibile nelle Faber-Castell Polychromos ma nella stessa tabella di conversione ci sono anche altre marche di matite ma di questo ne parleremo poi in un altro video che farò a breve e quindi questo è l'altro acquisto veramente sono felicissima e sono spettacolari queste guide poi in quanto ad Art Supplies ho acquistato questo pennello da trucco l'ho trovato in un negozio di cinesi ed è la marca Melissa My Beauty non costicchia poco le setole sono una cosa spettacolare sono morbidissime seppur ipercompatte e l'ho preso da utilizzare con i Distress Ink assieme all'altro che uso che è molto più grande ve lo faccio vedere ve l'avevo già mostrato che è questo che è della marca EM Beauty che ha le setole sempre morbide ma molto meno compatte è più grande quindi se devo colorare in un'area più piccola avevo bisogno di uno più piccolo quindi ho scelto questo ho fatto arrivare da Amazon la Faber-Castell Pit Artist Pen Bullet Nib White 101 è la punta da 1.5 in questo modo perché voglio provare nei libri di Mitographic a cancellare gli oggetti che non mi piacciono non mi interessano perché contengono praticamente se avete già seguito i miei video passati il disegno contiene degli oggetti da trovare e da scoprire solo che spesso non c'entrano assolutamente niente con l'immagine e infastidiscono abbastanza quindi guardando dei video della mia amica Color in Kid utilizzava queste Faber-Castell Pit Artist Pen bianche per cancellare proprio quegli oggetti quindi voglio provare appunto l'ho acquistato da Amazon non costa poco se avete un negozio di belle arti o simili una cartoleria ben rifornita nelle vicinanze di dove abitate provate a guardare lì se ci sono queste Faber-Castell Pit Artist Pen sciolte io ho preso la punta da 1.5 perché era quella più economica e comunque l'ho pagata se non sbaglio attorno a 6 euro è piuttosto cara scusate un'ulteriore aggiunta per il mese di gennaio scusatemi se ho fatto così tante aggiunte mano a mano ma ho girato i video in diverse volte pensando che ogni volta fosse l'ultima per il mese volevo portarmi avanti ho fatto un pasticcio niente vi aggiungo degli altri acquisti che saranno veramente gli ultimi a questo punto che sono stati fatti su Aliexpress questi credo da Lidl e da Toys vi faccio vedere tutto uno per uno vi faccio vedere prima di tutto questi due libri da colorare che ho preso appunto da Toys sono dell'aggiunti editore quindi si possono trovare credo anche in libreria e sono dei libri da colorare per bambini entrambi a 4 euro e 90 Disney Megacolor allora questo è Disney Megacolor avventure per tutti questo è Disney Princess Megacolor ragazze straordinarie sono proprio come due libri lo spessore è proprio da libro da leggere la grandezza anche e le pagine interne pure come tipologia di carta vi faccio vedere proprio due cose giusto per lo spessore è identico come vedete sembra proprio un libro da leggere allora questo è diviso per film i disegni sono su doppia fazzata sarebbe un libro da colorare per bambini ma è veramente piuttosto complesso nel senso che le immagini sono molto dettagliate con sfondi particolari e appunto come dicevo i disegni sono su doppia fazzata la carta è quella dei libri da leggere ma per le matite va benissimo i disegni sono bellissimi e non ho saputo resistere è proprio proprio bello ci sono un po' di disegni per ciascun film stessa cosa in un certo senso per questo la differenza è che non abbiamo la suddivisione con scritto il film è tutto tema principessa e disney e ci sono un po' pochi film a parer mio e all'interno di questo ci sono anche dei minigiochi per bambini quindi direi che queste pagine potrei utilizzarle proprio per provare i marker o i pennarelli non ho saputo resistere perché le immagini sono veramente belle in entrambi i libri ci sono tantissimi personaggi che di solito non si trovano negli altri libri alcune immagini sono molto simili a quelli della chat quindi probabilmente ci sarà qualche licenza dietro non lo so comunque bellissimi stupendi e mi sono piaciuti perché essendo in formato tascabile sono un po' come un libro da leggere quindi posso infilarli in borsa e portarmeli assolutamente dietro poi l'altro acquisto sono stati questi marker da aliexpress sono i chrome paint marker praticamente sono dei pennarelli poi adesso ve li faccio vedere che dovrebbero dare un effetto cromato e ho preso il cromo diciamo argento con il proprio cromo il cromo oro e il cromo bronzo questi due hanno la punta da fine da un millimetro questo invece ha sempre la punta da un millimetro ma è la bullet e ve li faccio vedere non è male è vero? e niente volevo provarli non vedo l'ora di infilarli dentro nelle pagine per degli effetti molto particolari non sono costati molto ora non ricordo quanto qualcuno volesse saperlo me lo scriva nei commenti e glielo farò sapere assolutamente passiamo all'ultimo acquisto barra regalo del mese ed è veramente l'ultimo ve lo giuro e sono questi pastelli a cera della Faber Castel sono 12 e me li ha comprati mia mamma pensando che potessi utilizzarli nelle pagine perché no ok eccoli qua questi sono i colori sono meno acerosi di quanto mi aspettassi sono piuttosto durini però dai hanno dei bei colori quindi magari potrei utilizzarli dentro qualche pagine e niente questi erano davvero gli ultimi acquisti di questo mese come sempre spero vi sia piaciuto il video vi siano piaciuti gli acquisti quindi lasciate un mi piace commentate mi raccomando fatemi sapere cosa vi è piaciuto di più se volete informazioni in più riguardo a qualcuno di questi prodotti che avete visto se invece passate per la prima volta dal canale mi raccomando iscrivetevi e cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video in uscita io vi aspetto per il prossimo video che sarà il video delle pagine completate di gennaio un grosso bacione ciao ciao